Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il palcoscenico di Amici 23 ha brillato con emozioni intense durante l'ottava puntata, che ha segnato la semifinale dello show. Le due squadre si sono fronteggiate in una serie di sfide avvincenti, da un lato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e dall'altro Lorella Cuccarini e Emanuello. Con l'uscita di scena di Martina, i coach Raimondo Todaro e Anna Pettinelli si sono trovati senza allievi, lasciando il campo libero ai loro rivali. Durante la serata, gli allievi della squadra Zerbi Cele hanno dominato il palco, vincendo quasi tutte le sfide contro Mida e Sara. Uno dopo l'altro, i talenti del loro team, i ballerini Marisol e Dustin, seguiti dai cantanti Petit e Olden, si sono guadagnati un posto in finale, mostrando performance straordinarie. La tensione ha raggiunto il culmine nell'ultimo ballottaggio tra Mida e Sara, ma con un inatteso colpo di scena finale, nessuno dei due è stato eliminato. La serata è stata suddivisa in tre sessioni. Nella prima, la strategia vincente della Celentano ha visto Marisol vincere due sfide consecutive, una contro Sara e l'altra contro Mida, assicurando così la vittoria al suo team. La seconda mancia ha riconfermato la superiorità del team Zerbi Cele, con Dustin che ha continuato a superare i suoi avversari. Nell'ultima, dopo un intermezzo comico di Geppi Cucciari, la squadra ha completato il suo trionfo, con Petit che ha superato Sara. Verso la fine della serata, il ballottaggio tra Mida, Olden e Sara, ha visto emergere Olden come quarto finalista, dopo che ciascuno ha eseguito una itestiva e una cover. Ma proprio quando tutto sembrava deciso, Maria De Filippi ha sorpreso tutti con una mossa inaspettata, un premio speciale per Mida da parte di Spotify, seguito dall'annuncio che sia lui che Sara avrebbero raggiunto la finale, portando il numero totale di finalisti a sei, anziché cinque. Questo colpo di scena finale ha lasciato i fan entusiasti e in attesa della finale, mentre Mida e Sara, visibilmente emozionati, hanno pianificato di fare uno scherzo ai loro compagni di squadra. La mossa ha dimostrato ancora una volta come il pongo regolamento di Amici possa sempre riservare sorprese, creando momenti indimenticabili sia per i concorrenti sia per il pubblico a casa. Che ne pensate? Con enti della decisione di Amici di portare tutti in finale? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie Grazie